Traffico di clandestini verso la Sicilia, nuovi arresti, due tunisini e due italiani. Emergenza caldo, l'ASP di Palermo ha messo in funzione un piano di sorveglianza attiva. Palermo, foro italico blindato per il concerto di Radio Italia di venerdì prossimo. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews oggi è mercoledì 28 giugno. Traffico di clandestini verso la Sicilia, nuovi arresti, i militari del GICO, della Guardia di Finanza di Palermo e della Compagnia di Marsala hanno eseguito altre quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due tunisini e di due italiani accusati di associazione per delinquere trasnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I finanziari del GICO del nucleo di polizia tributaria di Palermo con la collaborazione dei colleghi della Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala facendo seguito ai fermi di indiziato di delitto emessi dalla Didia di Palermo ed eseguiti il 6 giugno scorso nell'ambito dell'operazione denominata Scorpion Fish hanno eseguito oggi ulteriori quattro provvedimenti restrittivi nei confronti di due tunisini e di due italiani appartenenti all'Associazione per delinquere trasnazionale e dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nel corso dell'indagine sono stati anche individuati e tratti in arresto il capo e organizzatore dell'Associazione a delinquere smantellata poche settimane fa. Contestualmente è stato eseguito l'arresto di due incensurati italiani residenti a Menfi che hanno fornito alloggio e supporto logistico all'Associazione Criminale adoperandosi personalmente unitamente ad altri responsabili di nazionalità tunisina per il perfezionamento di più traversate illecite tra la Tunisia e l'Italia. Proprio a Menfi, nell'abitazione di uno dei soggetti arrestati in virtù dell'ultimo provvedimento aveva trovato il rifugio un tunisino elemento di spicco del gruppo criminale arrestato alcune settimane or sono dopo un drammatico inseguimento sui tetti di un complesso residenziale nel cui contesto aveva luogo l'incidente che portava al grave ferimento di un basco verde del gruppo pronto impiego di Palermo. Il GIP con l'odierno provvedimento ha disposto altrettante misure di custodia cautelare per tutti gli altri 13 responsabili individuati già assicurati alla giustizia in virtù dei provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Palermo. Guardia di Finanza di Palermo nell'ambito dell'operazione Meltemi arrestato al Valico Ponte Chiasso fra l'Italia e la Svizzera Salvatore Greco contiguo alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano. È stato arrestato presso il Valico Ponte Chiasso tra Italia e Svizzera proveniente alla Germania Salvatore Greco responsabile insieme a Placido Anello arrestato nell'ambito dell'operazione Meltemi dell'invio dalla Germania all'Italia di una pistola modello Smith & Wesson 357 Magnum con matricola a brasa e di oltre 320 cartucce. L'arresto è stato operato dalla Guardia di Finanza di Como su segnalazione del GICO del nucleo di Polizia Tributaria di Palermo. L'arma e il munizionamento occultati nei sedili di un furgone con targa tedesca di proprietà di Anello vennero sequestrati il 14 giugno 2016 dai finanzieri operanti nel porto del capoluogo su segnalazione delle fiamme gialle del GICO in esito ad un controllo effettuato sul veicolo appena sbarcato al traghetto proveniente da Genova. Nell'occasione fu arrestato il conducente Massimiliano Bellavia incaricato da Greco e da Anello dell'illecito trasporto. Greco, resosi irreperibile all'atto dell'esecuzione dei fermi dello scorso 21 giugno è personaggio da ritenersi collegato ad elementi appartenenti alla criminalità organizzata e in particolare alla famiglia mafiosa di Passo di Irrigano così come chiaramente emerge da provvedimenti giudiziari in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali adottati negli scorsi anni dal Tribunale di Palermo. Dieci anni fa Greco era ufficialmente solo un addetta alla cucina della sala Bingo Las Vegas di Palermo in realtà era il regista di un grosso investimento di mafia per conto della famiglia di Passo di Irrigano. Nel marzo 2016 si era trasferita in Germania e aveva iniziato a collaborare con Anello nella gestione di due ristoranti. Ora le indagini del GOA coordinate al procuratore capo Francesco Lovoi dal sostituto Maurizio Agnello rivelano che Salvatore Greco era il braccio destro di Anello. Parliamo dell'emergenza caldo. L'ASP di Palermo ha messo in funzione un piano di sorveglianza attiva per anziani e pazienti fragili fino a domenica prossima a temperature sopra i 40 gradi. L'ASP di Palermo ha messo in funzione un piano di sorveglianza attiva per anziani e pazienti fragili. Il servizio rientra nell'ambito del piano emergenza caldo 2017 entrato in funzione lo scorso primo di giugno. Le alte temperature previste sia oggi che nella giornata di domani hanno portato infatti all'avvio di un servizio di allerta per gli anziani già in assistenza domiciliare integrata e per i pazienti fragili segnalati direttamente dai medici di medicina generale ad una centrale operativa. In pratica i medici di famiglia dopo avere visitato il paziente potranno allertare direttamente la centrale operativa del servizio per richiedere qualora ve ne fosse bisogno l'impiego di infermieri professionali per terapie di reidratazione urgente a domicilio. I numeri di telefono dedicati sono ad uso esclusivo dei medici di medicina generale che già sono stati informati del piano di emergenza caldo. L'ASPA ha inoltre realizzato brochure e locandine sulle misure di prevenzione da adottare per fronteggiare eventualmente le alte temperature. Il materiale informativo contenente numeri di telefono da contattare consigli facili da ricordare e di immediata applicabilità è in distribuzione nei poliamburatori PTA unità valutative consultori farmacie e studi medici. Intanto secondo gli esperti l'ondata di caldo anomalo durerà ancora per diversi giorni favorita dal richiamo di venti caldi dal deserto algerino trasportati qui dall'anticiclone africano Caronte Temperature ben oltre i 40 gradi fino almeno a domenica prossima con picchi fino a 45 gradi. E con il gran caldo torna come ogni anno l'emergenza incendi in Sicilia nelle ultime ore ne sono stati spenti 8 chiusa a scopo precauzionale la riserva dello Zingaro fino a data da destinarsi. Il caldo anomalo come ogni anno fa scattare l'emergenza incendi in Sicilia. La riserva dello Zingaro è stata chiusa a causa delle alte temperature che possono favorire eventuali incendi per motivi di sicurezza fino a data da destinarsi. La colonnina di Mercurio ha toccato quota 40 gradi e così si è reso necessario prendere questa decisione per salvaguardare una delle aree verdi più incontaminate dell'isola. Intanto sono divampati diversi incendi quella di ieri è stata una vera e propria giornata di fuoco. Si contano 8 vasti roghi che hanno reso necessario l'intervento di mezzi aerei coordinati dalla sala operativa del corpo forestale. Il più vasto è quello divampato in contrada a Beveratoio Blufi a Gangi nel Palermitano dove sono intervenuti un canadeire da terra 20 forestali oltre alle forze dell'ordine e alla protezione civile per garantire eventuali evacuazioni. Qui il fuoco ha lambito alcune aziende agricole molto vasto anche il fronte che a Siracusa ha interessato le contrade Masca-Cassaro dove è entrato in azione l'elicottero pesante Geronimo. Gli altri due canadere impegnati in Sicilia sono intervenuti a Messina in contrada Salice e a Partinico nella zona di Madonna del Ponte. Spenti i due grandi fronti anche a Misilmeri a Brolo su Monte Cipolla. Dopo circa 12 ore è stato spento stamattina anche il vasto incendio che ha interessato il Monte Erice. Il ruoco è divampato intorno alle 18 e ha visto impegnate 9 squadre e 16 automezzi dei vigili del fuoco di Trapani e dei distaccamenti di Alcamo Marsale e Salemi. Rinforzi sono giunti anche da Palermo. L'incendio sviluppatosi dapprima alle pendici del Monte Erice si è propagato poi molto velocemente a causa del vento di Scirocco che ha spirato nel pomeriggio e sino a tardanotte. L'intervento tempestivo e massiccio dei pompieri ha evitato che il fuoco distruggesse alcune case presenti nella zona attraversata. Le squadre sono rientrate alle 5.30 del mattino dopo aver spento gli ultimi focolai. Cambiamo argomento. Il monitoraggio del glucosio senza puntura per i pazienti diabetici sta per diventare realtà. In Sicilia l'assessorato alla salute della regione siciliana ha dato mandato alla centrale unica di committenza della regione di procedere all'avvio di un'indagine ai fini dell'acquisto del dispositivo che permetterà di effettuare un numero illimitato di letture del glucosio senza pungere il dito. È un risultato importante che noi io in particolare dovevo ai cittadini diabetici di questa nostra regione a partire ovviamente dai piccoli diabetici quindi il provvedimento è rivolto innanzitutto nella prima tranche di fornitura ovviamente che sarà per step ai bambini ai soggetti in età pediatrica e dell'età evolutiva con diabete di tipo 1 quindi insulino dipendente e abbiamo già dato disposizioni alla centrale unica di committenza per poter effettuare la prima fornitura sulla base di quella che è il censimento fatto alla commissione preposta appunto alla problematica dei diabetici un risultato molto importante credo che sia il primo passo per un'evoluzione dal punto di vista del un aumento della qualità dell'offerta sanitaria certamente le lancette pungivito e le striscette per l'esame dell'agricemia costano hanno un costo a regime gli esperti hanno fatto un calcolo per cui ci sarà anche un risparmio quindi una qualità maggiore dell'offerta sanitaria è un risparmio e quindi per quanto ci riguarda è un risultato molto importante che abbiamo perseguito con grande determinazione siamo molto soddisfatti nell'averlo conseguito è un netto miglioramento rispetto al passato la nostra federazione in primis è scesa in campo per cercare di sposare questa battaglia affinché possa portare dei benefici per la popolazione con diabete soprattutto per quanto riguarda i bambini i ragazzi ancora di più per le mamme i genitori stessi dei bambini che possono giovare di questa nuova tecnologia che le consente di gestire al meglio la patologia e la condizione dei viti dei bambini soprattutto in età evolutiva e anche in condizioni sociali assolutamente di tutto rispetto come a scuola dove gli insegnanti possono tranquillamente gestire a distanza le condizioni del bambino senza dover intervenire in prima persona a bucare il dito nella storia della cura del diabete delle persone portatori portatrici di diabete oggi finalmente si mette un punto io direi si mette una montagna una pietra un macigno a questa benedetta puntura del dito questo sistema permette una rilevazione continua della glicemia una in media un valore ogni 5 minuti questo è quello che dà il sensore che a sua volta è la media di tante altre glicemie quindi una glicemia ogni 5 minuti letta da questo sensore che è una piccola monetina applicata nel sottocute questa glicemia trasmessa immediatamente al lettore il bambino il giovane l'adulto con diabete istante per istante verifica qual è la sua glicemia e lo verifica in relazione a quello che ha mangiato in relazione all'attività fisica quindi un controllo che può essere fatto come noi abbiamo visto in una sperimentazione che la nostra regione ha fatto su 100 persone con diabete unica regione d'Italia che ha testato dal vivo se questo strumento era davvero utile o no abbiamo visto che man mano che le 100 persone con diabete utilizzavano il sensore aumentavano i controlli si partiva dai 6-7 controlli che erano quelli che facevano pungendo le dita e 20-30 controlli il che ha significato miglior controllo della glicemia stessa minori ipoglicemie il dispositivo fornisce anche la tendenza verso l'ipo verso l'iper quindi non solo dà il dato ma ci dice se è un dato in salito o in discesa quello della glicemia quindi permette di poter intervenire direi in tempo reale evitando così un problema grave che è l'ipoglicemia l'ipoglicemia spesso cosa ha determinato a parte delle spese enormi di ospedalizzazione ma ha determinato il fatto che un bambino una bambina un giovane che ha avuto una crisi ipoglicemica che è un evento purtroppo drammatico spesso tiene la glicemia un po' più alte per evitare di avere l'ipoglicemia il Dipartimento Salute Mentale con l'unità operativa Dipendenze Patologiche dell'ASP di Palermo è in partnership con la Casa dei Giovani di Bagheria per un interessante progetto europeo che svilupperà una metodologia di coproduzione in grado di offrire un programma di formazione centrato prevalentemente sull'utilizzo delle arti e destinato ad operatori sociosanitari che lavorano nelle dipendenze patologiche in fase di remissione o con doppia di agnosi le interviste molte persone sono convinte che nelle comunità ci sia il metodo cosiddetto in termini un po' beceri in soldoni il metodo della pacca sulle spalle cioè pensano che gli operatori si limitano un po' a sostenere moralmente le persone che hanno avuto dei grandi problemi ma in realtà non è questo il metodo delle comunità nelle comunità ci sono persone che lavorano con un grande cuore con grande disponibilità con grande attenzione all'umano ma anche con grande attenzione alla scientificità dell'intervento e che hanno una preparazione quindi molto seria uno degli ambiti che si è rivelato negli ultimi decenni importante per quanto riguarda lo stimolo delle persone che si erano abbandonate si erano lasciate andare erano affondate un poco nel sociale e quello dell'arte l'idea progettuale è partita da me come comunque all'interno dell'ASP ed è una continuità di un altro progetto Palermo uno sguardo a fuoco curare con la fotografia destinato ad utenti tossicodipendenti in fase di recupero questa volta ci siamo fermati e abbiamo detto ma se l'arte funziona per pazienti psichiatrici utenti tossicodipendenti perché non proviamo un attimo a utilizzarla anche per gli operatori perché molto spesso non ci si rende conto che l'operatore che fa un lavoro di cura con disturbi di questo tipo che hanno processi di guarigione molto lunghi e ricadute e costanti ovviamente sente profondamente il senso di impotenza e di demotivazione per cui questo progetto proposto all'Europa ed accolto da altri quattro paesi vuole in qualche modo dare all'operatore la possibilità di fare un'esperienza rigenerativa di lavorare con il sé e di pensare che l'arte può essere uno strumento per poter nuovamente rivedere il concetto della malattia della relazione terapeutica o il paziente e anche utilizzare nuovi stili comunicativi oltre a quelli del proprio background professionale sicuramente l'arte con questo progetto non intendiamo arte-terapia perché gli operatori diciamo che faranno la formazione saranno degli artisti nulla togliendo all'arte-terapia ma noi con il precedente progetto abbiamo sperimentato che all'interno di una cornice senza che non sia medicalizzata abbiamo trovato con l'università che ha fatto la ricerca che il processo di trasformazione si è avviato in modo assolutamente spontaneo e naturale e allora perché non dare all'operatore la possibilità di vedere la relazione terapeutica con l'utente attraverso altri strumenti che possono funzionare come invece possono dare all'operatore la possibilità di stare un attimo in uno stato anche di riposo e di rigenerazione nasce da un'idea e dalla collaborazione di cinque paesi europei di cui la Casa dei Giovani rappresenta proprio l'Italia ovviamente questo progetto nasce dall'interesse di questi cinque partner europei di pensare all'arte e di voler sperimentare l'arte utilizzare l'arte per sostenere aiutare l'operatore della salute che lavora con adulti con dipendenze patologiche o doppia diagnosi quindi utilizzare l'arte come uno strumento di rinascita e soprattutto riuscire a creare un percorso di formazione continua che permetta all'operatore di riuscire ad avere e ad acquisire uno stato di benessere di rigenerazione tale da offrire una prestazione sempre qualitativamente alta ed efficace Foro Italico di Palermo Blindato per il concerto di Radio Italia di venerdì prossimo fra i tanti divieti anche quello di introdurre nell'area le aste per i selfie tutte le informazioni diramate dall'ufficio di Gabinetto della Questura in occasione del concerto Radio Italia Live che si svolgerà a Palermo al Foro Umberto I venerdì prossimo l'ufficio di Gabinetto della Questura ha diffusi informazioni alla cittadinanza per il sereno e sicuro svolgimento dell'evento il prato del Foro Italico verrà soddiviso in due aree a lato est direzione piazza Sant'Erasmo e B lato ovest direzione Porta Felice transennate e caratterizzate rispettivamente da 3 e 5 varchi attraverso i quali si accede all'area del prato per l'accesso alla zona A sono previsti due siti di prefiltraggio uno in piazza Tonnarazza e l'altro in via Lincoln altezza via Cervello nella zona B i prefiltraggi verranno istituiti in piazza Calza e Foro Umberto I altezza Porta Felice i quattro prefiltraggi prevedono un varco in entrata ed uno in uscita entrambi con transenne antipanico non scavalcabili e presidiati da Forza dell'Ordine e personale steward dotati di contapersone e metal detector che effettueranno controlli a zaini e borse l'accesso all'area sarà consentito a partire dalle ore 13 del 30 giugno e sarà limitato ad un numero massimo di 42.000 spettatori oltre i quali sarà inibito l'ingresso per tutta la durata dell'evento sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e alluminio nelle seguenti vie Corso Vittorio Emanuele ricompresso tra via Roma e Porta Felice piazza Marina via Cala Foro Umberto I zona piazza Calza via Lincoln zona stazione centrale piazza Giulio Cesare piazza Santerasmo piazza Fonderia vietato introdurre all'interno dell'aria valigie e trolley bombolette spray trombette da stadio materiale esplosivo catene e ancora bevande alcoliche sostanze superfacenti ma anche bastoni per selfie e treppiedi abbiamo fatto un giro in città per sentire come i palermitani accolgono l'evento Verdi Sera Radio Italia e il suo concertone sbarcano a Palermo lei andrà? mi sarebbe piaciuto molto purtroppo non sono arrivato in tempo a organizzarmi per questo evento ma come lo trova un'iniziativa interessante? sì molto interessante anche perché un evento del genere non c'è mai stato a Palermo quindi è un modo anche per creare movida all'interno della città è una bellissima iniziativa sicuramente mi vedrete lì perché ci andrà ho opportunità per i lavoratori che si buscano i soldi li guadagliano finalmente entriamo in questo circuito nazionale trovo che sia importante che anche a Palermo venga venga usata tra virgolette per manifestazioni di questo genere penso che sia una cosa bella un'opportunità bella anche per crescere a Palermo ovviamente perché giustamente Palermo ha tanto da dare sicuramente è un'ottima opportunità per Palermo io credo che era ora anche che un evento di questa portata scendesse un attimino al sud è una cosa positiva è un buon modo anche per pubblicizzare la nostra terra che è stata sempre anche un po' sottovalutata visto che è la prima volta qui è una buona opportunità anche per aprire la città a tutta Italia e far capire anche che noi siamo una cittadina proprio di cultura e di musica soprattutto perché è piena di artisti la Palermo penso che a Palermo dovrebbero fare cose diverse cose che possano diciamo accrescere la cultura dei siciliani la cultura locale qualcosa ecco di locale penso che la Sicilia abbia bisogno di questo più che di questi grandi eventi nazionali è una bella occasione sicuramente anche perché si tratta di un concerto d'accesso libero l'unica cosa è che ci saranno moltissime persone quindi potrebbe diventare anche un'arma a doppio taglio la Italia mi piace gli artisti un po' meno perché sono di un altro genere però non mi dispiace un'opportunità per la città sicuramente sicuramente a Palermo domani sera alle 21 il convento cabaret ospiterà Ci vuole vita per amare la vita un inedito inno alla vita appunto risultato di letture confronti e prove sul palco degli allievi del laboratorio teatrale dell'associazione culturale Grado Zero diretto da Rinaldo Clementi e coordinato da Giaia Baiamonte ci stiamo proponendo come portatori sia di spettacoli teatrali che abbiamo appena aperto un corso di recitazione a gennaio e a breve faremo appunto il primo saggio del nostro primo corso di recitazione ci occupiamo di teatro devo dire che Palermo negli ultimi anni è molto attiva a livello teatrale figuriamoci c'è un'emmadante che è tornata in qualche modo qui a Palermo a fare di nuovo teatro qui a Palermo quindi secondo me qualcosa si sta smuovendo e ognuno di noi ognuno del proprio piccolo come l'associazione Grado Zero del proprio piccolo ha qualcosa da dire il teatro è un modo di vivere quindi di conseguenza chi ha studiato questo perché non farlo a Palermo che è un teatro a cielo aperto ecco perché smettere non bisogna avere paura soprattutto con l'arte l'arte non fa avere paura a chi si rivolge la vostra associazione? la nostra associazione non ha un target è rivolta a tutti tanto che il primo corso è un corso amatoriale quindi di conseguenza non c'è un genere di persone che può fare teatro e un altro che non lo può fare teatro è aperto a tutti e lo possono fare tutti ovviamente quando si tratta di un corso propedeutico per attore attore o ci nasci o non ci diventi quindi c'è chi magari è più portato ma non per questo non può fare un corso amatoriale di recitazione perché magari ti può aiutare a conoscere determinati lati del tuo carattere e della tua vita o aiutarti dal punto di vista lavorativo vero e proprio come parlare come esporsi andare in scena con ci vuole vita per amare la vita che è un verso tratto da una da una delle poesie di Masters e perché mi sembra molto evocativo e soprattutto propositivo ci vuole vita per amare la vita per essere vivi bisogna essere vivi per fare tutto bisogna essere vivi e soprattutto per fare teatro per fare teatro come intendo io sono moltissimi anni che io mi occupo di formazione di lavoro nelle scuole io lavoro moltissimo nelle scuole con i ragazzi perché ritengo che siano le persone più più belle più 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 propositive che hanno più vita da poter spendere per per amare la vita insomma e quindi aiutarli aiutare le persone i ragazzi in specie ad amare la vita e per allottare anche perché non è che uno ama e poi sta lì e si fa fare di tutto senza dire niente no amare significa agire e quindi ecco quello che mi piace moltissimo trasmettere è l'azione teatro e azione sport cambio della guardia per il bagheria calcio città delle ville la società ha presentato il nuovo presidente Riccardo Scardina che sostituisce il dimissionario Domenico Prestigiacomo il mister Marco Mineo è stato invece riconfermato alla guida del bagheria città delle ville dopo la vittoria del campionato nella passata stagione che ha portato la squadra in promozione con le dimissioni di Domenico Prestigiacomo e del socio Francesco Di Stefano è stato necessario l'intervento di noi sportivi bagheresi per poter salvare quella che è un'eccellenza almeno a bagheria il bagheria calcio andava salvato il bagheria città delle ville continuerà a esistere grazie all'impegno di noi sportivi che ci siamo fatti carico di questa situazione l'idea è quella di creare un polo sportivo che possa andare a raggruppare due sport che sembrano molto simili ma in realtà sono molto diversi come il calcio a 5 detto futsal e il calcio a 11 il calcio a 5 è conosciuto da Roma in giù il santisoro appunto conosciuto da Roma in giù siamo da 4 anni una realtà ormai consolidata nel territorio nazionale dicevo appunto conosciuti da Roma in giù appunto perché settimanalmente ci siamo trovati ad andare a Foggia piuttosto che a Napoli a Bari a Matera un po' in giro per lo stivale ed è chiaro che l'esperienza che abbiamo acquisito negli anni quindi la andremo totalmente a riversare a trasferire in quella che sarà la nuova società del Bagheria Città delle Ville poi è sorta una nuova società appunto che si chiamerà come la vecchia SD Bagheria Città delle Ville che il quale avrà una matricola Figgici Nuova ma manterrà l'anzianità di affinazione del Santisidoro che era affiliata dal 2003 se pensiamo che Bagheria il massimo che ha ottenuto era una serie D quindi è una categoria nazionale il massimo la serie D è chiaro che comunque abbiamo tanto su cui lavorare ripeto i ringraziamenti vanno a questo gruppo di ragazzi che ha fatto delle cose straordinarie riportando il Bagheria quanto meno in una zona più confacente al blasone di Bagheria del club Marco ha un grandissimo merito e incarna lo sportivo bagherese per eccellenza che si è dedicato a anima e corpo per creare una squadra un team vincente e ci è riuscito noi tenteremo di continuare su questa falsariga consolidando la società per ben figurare nei prossimi anni quindi quello che abbiamo chiesto a Marco Mineo per il prossimo anno è una tranquilla salvezza poi tutto il resto verrà e ce lo prenderemo di buon grado stiamo lavorando di concerto con mister Mineo con il direttore Bruno Ferraresso e il nuovo direttore sportivo che presenteremo fra qualche giorno apposta per intanto andare a bloccare e confermare il vecchio blocco poi andremo a puntellare la squadra visto l'addio del portiere Milani e di qualche altro innesto ad hoc per la promozione e cercheremo di mantenere quanto più possibile la bagheresità del nostro gruppo e del nostro essere abbiamo già avviato un'interlocuzione con l'amministrazione comunale che si è impegnata effettivamente per risolvere il problema stadio e ci hanno assicurato di essere in dirittura d'arrivo Santa Flavia rimane una validissima alternativa e ringrazieremo sempre l'amministrazione comunale di Santa Flavia che ha messo a disposizione dei nostri colori della nostra società la struttura Ed è tutto grazie per essere stati con noi vi lascio come al solito al meteo arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti